Ehm, ciao a tutti. Che si dice in questi casi? Ehm, mi chiamo Fausto Cabra, ho 32 anni. Ehm, che dire, mi piacerebbe fare questo casting Martini. Perché? Perché, perché mi piace e per anche altri motivi. Ehm, che si fa a questi casi? Qua se... Boh, mi piace vedere delle fotografie. Il cadere molto in basso mi serve per scoprire tutto ciò che mi manca, tutto ciò che non ho ancora, tutto ciò che non ho per borsa, tutto ciò che non so. O tutto ciò che mi illudevo di essere perché non ero ancora. Ehm, che si fa a questi casi. Ehm... 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 Intanto vi auguro una buona giornata. Ehm... 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 Sì... Ehm... Ma... Ehm... 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti